proviamo adesso il sistema monitor view di nissan qashqai con il quale si riesce a vedere davanti sinistra destra e dietro anche con tutti i vetri e parabrezzi oscurati questo per poter parcheggiare anche in presenza di ostacoli invisibili e adesso andiamo a provarlo il video ha un video per la parte frontale il video è qua e per la parte di dietro invece il video lo troviamo qua in fondo la telecamera le quattro telecamere danno questa visuale una visuale completa davanti dietro sinistra destra e poi gli ostacoli uno per uno possiamo cominciare le linee verdi dando il raggio di sterzata qui si vede che stiamo riusciamo a sterzare a scansare l'ostacolo a destra poi dobbiamo qua lo teniamo sulla sinistra e adesso dobbiamo girare il prossimo ostacolo eccolo qua la telecamera passa sulla vista posteriore e adesso ecco che si vede che riusciamo a passare il muro adesso sterzare tutto a destra per evitare questo ostacolo l'ostacolo viene superato eccolo qua che lo vediamo e adesso tutto a sinistra qui l'ostacolo lo stiamo superando ed ecco qua che si vede che la traccia verde passa accanto al muro infatti si vede qua che la macchina rimane accanto al muro ok abbiamo visto quindi con questo sistema che si riesce a parcheggiare a scansare tutti gli ostacoli abbiamo fatto tutto uno slalom pur con i vetri completamente oscurati molto bene per nissan cascai e il sistema overview Grazie mille Grazie mille Grazie mille